Basta, raccontate un po' di cose intelligenti però, perciò, vi raccontate cose intelligenti. Sono stata tante volte, vi ho risposto tante volte, ho detto che sono in Commissione Finanze, lavoro come una malta per cercare di allusire il carico che scala agli italiani e voi puntualmente mi chiedete queste cose, questo veramente sta diventando... Ma questa non è politica, non è la politica che vogliono gli italiani. Tutto questo nasce dalle dichiarazioni di una senatrice del Movimento 5 Stelle. Non conosco le dichiarazioni perché ieri abbiamo parlato di Commissione Finanze. Si aggiorni per piacere, racconti quello che facciamo, racconti quello che gli italiani vogliono, cioè un alleggerimento del carico fiscale per evitare di arrivare al suicidio. Basta. C'è un po' di chiara, un po' di chiara.